La coppa di Gesù Cristo Vedo che è agli occhi di suo padre Il capo del progetto Santo Graal si è volatilizzato Trovi quell'uomo e troverai il Santo Graal Perché non prova con mio padre? L'abbiamo già fatto E suo padre è l'uomo che è scopparso Professor Jones? Sì Alan! Nazisti, io l'ho da questa gente Sono arrivato fin qui per salvarmi Ah sì? E chi verrà poi a salvare te, Giulio? Ti ho già detto E non chiamarmi più Giulio E questa sarebbe stata solo un'altra giornata tipica da te Maus! In vaga! No! Migliore di molte altre Stato cercando di ucciderci Lo so, papà! Senza bisogno È una nuova esperienza per me A me capita sempre A me capita sempre